Domanda, vuoi essere uguale a tutti gli altri, o vuoi essere un passo avanti distinguendoti da tutti? Se vuoi essere come tutti gli altri, non guardare questo video. Altrimenti ti diamo una possibilità reale per evolvere dalla massa la tua azienda, la BTE, Borsa del Turismo Extralberghiero, che si svolge a Palermo dall'8 al 10 novembre e se proverai i presupposti che ti offriamo farai un balzo del 90% contattando direttamente chi può portare i turisti nella tua struttura. Qualcuno dirà che ci saranno dei problemi di comunicazione o di offerte. Certo che ci saranno, ma possiamo darti la garanzia di contattare oltre 150 tour operator francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi, danesi, cinesi, israeliani e ecce, che vengono alla BTE per programmare i loro futuri viaggi nella nostra Sicilia. Più di mille aziende come la tua si sono già registrate con un semplice modico importo. Registrati anche tu o prendi prima informazioni contattando Confesercenti Trapani in via Vespri 10 Trapani o telefonando al 09-235-47889. Non mancare. Contattaci subito. Domanda. Vuoi essere uguale a tutti gli altri? O vuoi essere un passo avanti distinguendoti da tutti? Se vuoi essere come tutti gli altri, non guardare questo video. Altrimenti ti diamo una possibilità reale per evolvere dalla massa la tua azienda, la BTE, Borsa del Turismo Extralberghiero, che si svolge a Palermo dall'8 al 10 novembre se proverai i presupposti che ti offriamo farai un balzo del 90% contattando direttamente chi può portare i turisti nella tua struttura. Qualcuno dirà che ci saranno dei problemi di comunicazione o di offerte. Certo che ci saranno, ma possiamo darti la garanzia di contattare oltre 150 tour operator francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi, danesi, cinesi, israeliani e ecce, che vengono alla BTE per programmare i loro futuri viaggi nella nostra Sicilia. Più di mille aziende come la tua si sono già registrate con un semplice modico importo. Registrati anche tu o prendi prima informazioni contattando Confesercenti Trapani in via Vespri 10, Trapani o telefonando al 09-235-47889. Non mancare. Contattaci subito.